Con Fartigianato si prepara a festeggiare la terza edizione della giornata della cultura artigiana in occasione di San Giuseppe Artigiano. L'evento, che si terrà a Pesaro per la capitale italiana della cultura 2024, è in programma il 19 marzo al Teatro Rossini. Il tema dell'evento, che vedrà ospiti e influencer di fama nazionale non solo, sarà quello dell'intelligenza artigiana Valore per l'Italia, che osserverà con occhi esperti il mondo dell'intelligenza artificiale in redazione a quello dell'artigianato. È un onore ospitare a Pesaro l'evento nazionale del valore artigiano, dell'intelligenza artigiana. Ormai da alcuni anni la Confederazione Nazionale di Confartigianato organizza in occasione della capitale della cultura un evento e quest'anno capita a Pesaro e per noi è veramente un grande onore ospitare questo evento, un evento che parlerà dell'etica dell'intelligenza artificiale, del valore delle imprese artigiane che potranno e come potranno gestire lo strumento per far sì che il valore dell'uomo, il valore del creare possa non essere superato dallo strumento. Quindi avremo dei relatori di assoluto valore che potranno comunque illuminarci e darci e fornirci quelle che sono le linee guida per gestire il cambiamento, un cambiamento sempre molto complesso ma che tutti insieme potremo cercare di gestire e superare per un miglioramento del nostro paese, del nostro territorio. Per noi è un onore partecipare e avere un evento nazionale sul nostro territorio sul quale come Confartigianato Ancuna Pesaro Urbino stiamo puntando tantissimo dalla realizzazione della nuova sede con l'inaugurazione, essere partner della città Pesaro Capitale della Cultura 2024, dall'aver preso parte a tutte le iniziative e essere partner anche della biosfera, dell'inaugurazione della biosfera e quindi questo sancesce un po' anche con l'obiettivo che abbiamo come Confartigianato Ancuna Pesaro Urbino di essere sempre più in rete, fare sempre più rete con le imprese, le famiglie, quindi le persone e soprattutto gli enti sul territorio. La nostra confederazione ha scelto la capitale italiana della cultura 2024 proprio per sottolineare che noi imprenditori artigiani siamo la cultura produttiva made in Italy, perché siamo profondamente radicati nelle nostre comunità ma contemporaneamente conquistiamo il mondo con l'eccellenza dei nostri prodotti, perché esprimiamo talento, competenze e saperi antichi che rappresentano la biodiversità dei territori italiani. Il 19 marzo sarà l'occasione per ribadire che in questi tempi di grande incertezza c'è bisogno di cultura artigiana per ricostruire un modello di sviluppo economico e sociale sostenibile e a misura d'uomo.